Salve a tutti amici youtubers e bentornati dal vostro GatoradeGeros94, faccio questo piccolo video informativo per informarvi appunto che domani sera, e cioè martedì 4 luglio, sarò al San Marino Stadium insieme a Seekwolf, Alfreds, Kundispa, Papyrus e Gappomen per vedere il preliminare di Champions League tra La Fiorita e Linfield, 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 Linfield Comunque una squadra irlandese, voi penserete ma com'è possibile che una squadra come La Fiorita, che non si sa neanche che squadra sia possa giocare alla Champions League, per chi non lo sapesse loro sono i campioni di San Marino ed essendo San Marino un paese a sé, uno stato a sé e una nazione a sé, chiamatelo come vi pare ha diritto di partecipare ai preliminari di Champions League, si è già giocata l'andata tra queste due squadre in Irlanda e La Fiorita ha perso per 1-0, quindi noi saremo allo stadio quella sera per tifarla e sperare in una clamorosa rimonta che potrebbe portarli ad andare al secondo turno preliminare, voi pensate ma come all'improvviso è venuta a mente andiamo a vedere La Fiorita, praticamente il nostro collega youtuber Papyrus ha fatto un video ironico su questa partita dicendo che visto che loro giocano in Champions ci potrebbe andare anche lui, in tono ovviamente ironico è riuscito però a mettersi in contatto dopo questo video con il presidente della società che ci ha invitato tutti quanti ad assistere a questa partita, di conseguenza abbiamo deciso di sfruttare questo invito da parte del presidente per rincontrarci tutti quanti e per fare diciamo un raduno di youtuber dopo che l'ho fatto con Sinkolf e gli altri qualche mese fa quando sono venuti a Gubbio vi do velocemente alcune dritte per chi volesse venire, per chi magari fosse nelle vicinanze o chi comunque volesse venire per farci un saluto e fare comunque 4 chiacchiere insieme il biglietto per la partita costa 5€, noi saremo in tribuna stampa come dei perfetti giornalisti per assistere alla partita ovviamente se voi volete ci possiamo vedere fuori lo stadio, cioè un po' di minuti prima che inizi la partita ovviamente vi aggiornerò anche sulla mia pagina facebook e sul mio profilo personale ci vedremo, scambieremo 4 chiacchiere, ci faremo qualche foto se volete è un modo per stare insieme e magari se dopo vedete lo stadio per vedere una partita di Champions League non so se ci sarà addirittura l'inno iniziale però se ci fosse sarebbe veramente incredibile perché lo stadio del San Marino è praticamente come quello del Gubbio all'incirca sui 5000 posti e quindi sentire un inno del genere in uno stadio così mi farebbe veramente molto molto strano ma comunque concludo velocemente questo video se vi va di incontrarci prima della partita o comunque se volete venirla a vedere fatemelo sapere, scrivetemelo qua sotto nei commenti e troveremo un modo per organizzarci adesso è veramente tutto, fatemi sapere nei commenti se ci sarete un saluto e sempre Forza Roma ciao ragazzi